Marco Gigliotti del Gigliotti Team di Nuoro, domani la palestra della scuola elementare di Furredo Nuoro ospiterà una grande manifestazione dedicata alle arti di combattimento. Come nasce l'idea di questo evento? Sì, abbiamo voluto organizzare questa giornata dedicata all'isporto e al combattimento dopo i titoli ottenuti agli ultimi campionati regionali, sia nella disciplina dello judo che nella lotta olimpica. Tutto questo si è potuto organizzare anche grazie alla collaborazione della ASD Takadai Nuoro del maestro Giulio Zoroddu il quale con i suoi atleti faranno una disciplina di Muay Thai che è una disciplina di origine tailandese e ringrazio anche la collaborazione del maestro Luca Amattu della Nova Uniao Nuoro e invece loro faranno un'esibizione di Brazilian Jiu Jitsu, una disciplina di origine brasiliana. Che atleti parteciperanno? Da che età? Allora, l'età sarà circa dai più piccoli e inizieranno dai 6 anni ai più senior, quindi un'età stiamo parlando intorno 30, anche 35 anni. Quindi coinvolgeremo tutte le classi d'età per far vedere che sono degli sport sia per i più piccoli per uno stile di vita sano ed educativo ma anche per i più grandi, amatori. Invece il 24 maggio ci sarà il trofeo amatoriale Via dalla strada, una manifestazione di promozione sportiva. Sì, faremo un trofeo amatoriale di Judo denominato Via dalla strada, una manifestazione sportiva che coinvolgerà circa 80 atleti di età adolescenziale proveniente da tutta la Sardegna. L'ingresso sarà gratuito e senza nessun costo di partecipazione da parte delle atleti in gara. Questa è una sfida che è giunta già al suo terzo anno consecutivo. Questo per promuovere una disciplina olimpica di origine giapponese.